Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione e l'apertura del telegiornale dedicata alla riunione che si è svolta al comune di Gela in merito ai lavori che dovrebbero partire in città nell'ambito del patto per la Sicilia Confronto aperto tra giunta e consiglio comunale, si è anche parlato di compensazioni eni, vediamo Primo tavolo tecnico di lavoro per seguire da vicino i progetti inseriti nel patto per il sud per Gela, le compensazioni eni e quelle minerarie Riunione tra il sindaco Domenico Mersinese, il suo vice con delega all'industria Simone Siciliano, il presidente del consiglio comunale Alessandrasia ed i capigruppo consigliari L'obiettivo è quello di fare il punto sui progetti cantierabili, i soldi previsti e la relativa ricaduta occupazionale predisponendo una piattaforma concertata con le parti economiche della città Il sindaco e l'assessore siciliano hanno illustrato lo stato di ogni investimento Fino ad oggi sono stati impegnati circa 13 milioni di euro per il ripristino funzionale del porto la realizzazione del museo che ospiterà la nave greca e la ristrutturazione dell'ex casalbergo di Macchitella Altre idee sono quelle di realizzare un ostello della gioventù per riqualificare l'orto Fontanelle ripristinare l'ex dogana per creare un infopoint museale ripristinare la palestra dei Salesiani creare un parco tecnologico per la gestione dell'illuminazione pubblica Il secondo lotto per completare il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia sarà finanziato invece con altri fondi Il presidente della Sisa Civica Asia ha chiesto chiarimenti sui fondi destinati alla formazione mentre i consiglieri comunali Enzo Cascino ed Enzo Giudice hanno puntato l'accento sull'uso delle acque reflu e depurate del ragoleto per l'agricoltura Messinesi ha spiegato che l'idea è quella di non far pagare oneri il primo anno agli agricoltori compensandoli con l'entrata Eni Per Cascino il problema è dei cinque invasi non messi in sicurezza ma interrati Il consigliere Sara Bonura ha chiesto se il comune può anche intervenire sul rifacimento della pavimentazione della chiesa dei Salesiani ma sugli edifici di culto il comune non può entrare nel merito Il patto per il sud, ha detto il sindaco, è vincolato a progetti cantierabili C'è una lista alla regione, tutti i progetti esecutivi sono già inseriti Il consigliere comunale Luigi Di Dio ha aperto al confronto Noi non vogliamo essere d'intralcio ma d'aiuto però sul protocollo si è molto in ritardo L'assessore siciliano ha voluto aprire al dialogo costruttivo Mi scuso formalmente se abbiamo dato l'impressione di volere lavorare da soli, ha detto ma non c'era alcuna intenzione di farlo Siamo qui ad accogliere proposte e vostre idee Alessandra ci ha commentato positivamente questo primo confronto Condividere dei percorsi con il consiglio comunale è importante, ha riferito L'obiettivo è sempre il bene comune considerato che siamo davanti ad uno scenario di cambiamento Il tavolo permanente consentirà di seguire tutti gli iter passo dopo passo Adesso parliamo del ritrovamento di una possibile pietra calendario nel territorio di Gela Si attendono le valutazioni da parte di alcuni esperti del settore Al fine di convalidare la scoperta e avere indicazioni ben precise Sentiamo La Spina, voi stavate effettuando un sopralluogo in realtà orientato a che cosa? Si, facevamo un sopralluogo alla ricerca di bunker della seconda guerra mondiale Quando ci siamo ritrovati davanti a una cosa molto particolare Questa pietra forata Che poteva dire tanto e così appunto ci siamo soffermati un po' nel analizzare questa immagine A scattare delle foto Anche soltanto il dubbio inizialmente che potesse essere quello che insomma si sta cercando di verificare sia Che emozioni vi ha fatto vivere? Molto particolari, innanzitutto ho contattato degli esperti del settore I quali mi hanno consigliato di ritornare sul luogo nel sostizio d'inverno E prendere le particolari misurazioni Abbiamo visto il sole sbucare appunto da questa pietra forata L'emozione è stata tanta È chiaro che siamo solo all'inizio di un percorso C'è molto studio da fare Molto conferme da avere E io chiedo appunto l'aiuto degli esperti di Arche Astronomia Ad ogni modo si sarà fatta comunque proporzione della città Perché comunque si tratta di un'opera realizzata dall'uomo moltissimo tempo fa Sì con molta probabilità e tra l'altro l'area è ricca densamente popolata di evidenze archeologiche Ci sono numerose tombe, ceramiche e via dicendo Che fanno ipotizzare che appunto l'area fosse altamente antropizzata Quindi ci fosse la presenza dell'uomo L'archeologia si muove nell'ambito delle ipotesi In questo momento allo stato dei fatti Quali sono le vostre ipotesi e in che periodo possiamo collocare quest'opera? Allora io parlo da astrofisico più che da archeologo Però oggi è stato un primo sopralluogo Che è evidenziato come questo monumento Io lo chiamo al momento naturale Abbia un orientamento ben definito Che è quello appunto dell'alba al sostizio d'inverno Tuttavia adesso c'è una seconda fase che si apre Che è quella della ricerca di dati etno-antropologici Ma anche geologici ed archeologici Quindi al momento è difficile datare quest'opera Chiamiamola così Possiamo dare qualche informazione sulle tombe Perché comunque credo che sia una bella scoperta Ecco, di questo Giuseppe deve andarne davvero fiero Col suo gruppo E lo ringrazio anche per avermi invitato Però non possiamo al momento dare informazioni Sulla data della pietra forata Dato che dobbiamo ancora studiare in dettaglio Ecco, le sue caratteristiche Qual è il collegamento tra le opere dell'uomo e l'astrologia? Beh, diciamo che l'uomo fin dall'antichità È stato colpito da subito per così dire Alle meraviglie del cielo Basti pensare che in tutte le civiltà antiche Abbiamo delle corrispondenze astrali Queste corrispondenze le ritroviamo sia in monumenti Che in antichi manufatti In Sicilia soltanto da qualche anno Si studia l'archeoastronomia In generale l'astronomia culturale E quindi credo che nei prossimi anni Avremo davvero tante belle scoperte Da divulgare e da condividere con il pubblico Sulla vicenda abbiamo raccolto la testimonianza Di un altro esperto E del direttore del polo museale di Gela Sentiamo Che cosa è una pietra calendario E quali sono le caratteristiche Che emergono immediatamente ad un primo sopralluogo? Si tratta di una lastra di pietra Pettamente allenaria Quasi sempre fiscenometrico Dove c'è fatto un foro E questo foro è orientato Astronomicamente con un'alba O estate o inverno La cosa importante è che coincida L'azmut con l'altezza Perché mentre il mare è l'orizzonte zero Quindi è piatto Qua per far coincidere Quindi coincide sempre Qua per far coincidere L'altezza con l'azmut In base all'altezza geografica Devono stabilire un punto preciso Dove si incrocia E questo è uno dei primi punti fondamentali Per stabilire Se si tratta o meno Di una pietra orientata astronomicamente E se non fosse invece questo tipo di opera Che cosa potrebbe essere? Potrebbe ad esempio essere una corrosione Degli agenti atmosferici? Può anche darsi Però se non ci sarebbe questa corrispondenza Già altezza e azmut O c'è l'altezza o c'è l'azmut E qua c'è un incrocio perfettamente A 120 gradi in azmut Con l'altezza geografica L'orizzonte geografico Quindi lei escluderebbe un'opera della natura Agenti atmosferici? Intanto possiamo dire benissimo Che tutta l'area è antropizzata Perché ci sono le tomba grotticella Ci sono i materiali castelluciani Quindi del periodo L'unica cosa che ancora dobbiamo stabilire È l'antropizzazione del monumento In questa fase non abbiamo visto Anche perché c'è molta erosione Però ora riguardando un po' le foto Abbiamo visto che il fiscio erumitico Questo affioramento che è I strati verticali Davanti al foro Presenta un taglio orizzontale Che non può essere naturale Quindi questa è una prima ipotesi Che ci fa pensare Che sia stato fatto dall'uomo Però dobbiamo Vogliamo principalmente Una consulenza geologica Che ci dica Che quel taglio orizzontale È stato fatto dall'uomo E non può essere dalla natura Questa conferenza stampa È stata indetta Proprio per comunicare Alla nostra collettività L'inizio di uno studio Che è quello Che è stato rilevato Nel nostro territorio Un orificio Un buco Un orifizio Dove Che è orientato Verso est Quindi ben preciso Dove Sotto questo orifizio C'è un blocco Che probabilmente Sia un menire Ora Dire Determinati discorsi Che si sono fatti in città In questi giorni Mi sembrano un po' esagerati Però Sicuramente È un inizio Di un procedimento Che è volto Alla promozione Di questo territorio Ora Fra qualche Un lasso di tempo Di studio Che noi faremo Che faranno Perché noi siamo Il museo Solo volto alla promozione Questo lo ribadisco Si arriveranno Delle conclusioni Possiamo Come dire Avere Delle Delle certezze Sia in positivo Come in negativo È arrivata L'ondata di gelo Da record Annunciata E tanto attesa Da giorni In Sicilia Temperature anche A zero gradi In gran parte Dell'isola E fiocchi di neve Anche a gela Ieri sera Le temperature Nella notte Hanno raggiunto Meno Un grado Ancora più basse Saranno le minime E le massime Nei prossimi giorni Che vedranno Permanere L'area Gelida Della Scandinavia In città Oggi Secondo Meteo.it La giornata Sarà caratterizzata Da cielo Poco nuvoloso Ovelato E temperature Comprese tra Meno 2 e 6 gradi Centigradi E la minima Di meno 2 gradi Centigradi Alle 7 I venti Saranno per tutto Il giorno moderati Provenienti da nord Nord ovest Con intensità Di circa 27 km Metrorari E in questi giorni Di gran freddo Dollino di Dio Ricorda tutti coloro Che ne avessero bisogno Che la piccola casa Della misericordia Nel novembre scorso Ha inaugurato Il dormitorio Per le persone Senza tetto Presso la chiesa Di Sant'Agostino Considerate le condizioni Atmosferiche Di questi giorni Dice Dollino Di Dio Desideriamo ricordare Alla cittadinanza gelese Che nel convento Di Sant'Agostino C'è la possibilità Di ospitalità Gratuita notturna E di pasti caldi Per i fratelli indigenti Vi preghiamo Di segnalarli O accompagnarli Presso la nostra struttura Per la neve Che cade copiosa A Caltanissette È stata rinviata Data da destinarsi La partita Del campionato Di eccellenza In programma oggi Al Vincenzo Presti Tra Terranova E Nissa Il maltempo Infatti Non permette Alla squadra nissena Di spostarsi Dal capoluogo Auto in fiamme La scorsa notte In via Perugia Gela Il fuoco Ha danneggiato La vettura Di un operaio Di 47 anni Incensurato Che da diverso tempo Vive e lavora Nel nord Italia Sul caso Indaga la polizia Successo ieri sera Per la chiusura Della terza mostra Dei presepi Presepi in comune Allestiti dagli alunni Delle scuole giolesi E promossa dalla Proloco Dallo scorso 16 dicembre Il palazzo di città Ha ospitato Numerosi visitatori Incuriositi ed affascinati Dalla lavoro Degli studenti I presepi come simbolo Di rinascita Verità e giustizia Una raffinata Combinazione Tra abilità manuale E creatività In questo mese In cui sono stati aperti Qui al comune La frequenza È stata molto assidua E questo ci dà Quella motivazione In più per dire Che stiamo facendo bene E quindi avremo modo Di preparare altre cose Che sono già in programma Un vecchio adagio dice Non c'è due senza tre Da oggi diremo Non c'è tre senza quattro E senza quattro Senza fine Nel corso della mostra Le presepi È stata presente Anche una bancarella Di beneficenza Allestita Dalla Soloptimist Club Di Gela È stata per noi Una bellissima esperienza Che abbiamo Molto piacevolmente E costruttivamente Condiviso Con la Proloco E ricordiamo Che tutto quello Che voi avete venduto E l'ha ricavato Va in beneficenza Sì Va tutto in beneficenza Noi stiamo seguendo Siamo dietro A un service nazionale E il tutto Verrà devoluto Per i terremotati Del centro Italia E qualcosa Andrà pure A qualche realtà locale Durante l'iniziativa Di di sera Si è svolta anche La pesca dell'epifania Ad ogni biglietto estratto Corrispondeva Un premio Offerto Da alcuni sponsor Locali Tra i premi Anche un dipinto Del maestro Giovanni Iudice La serata È stata presentata Da Fabio Lapolara Il sindaco Domenico Messinese Abbiamo visto Dai presepi Commestibili Ai presepi Ecologici Dei presepi Che esprimono La fantasia Dei nostri ragazzi E che si trovano Come ho detto Altre volte Credo In un posto Molto rappresentativo Che è proprio La città Di tutti I nostri Di tutti i gelesi Quindi È una manifestazione Che è continua L'anno scorso Abbiamo voluto Cambiare Proprio la destinazione Per darlo In questa nuova cornice Facendo diventare Questo palazzo grigio Un palazzo più allegro E poi anche Per far avvicinare I più giovani A questo palazzo Che può sembrare Un palazzo Distante alla città Ma in realtà Deve essere vicino Partendo dai più piccoli La Prologge Ha consegnato anche Un attestato Di partecipazione A tutti coloro Che hanno sposato Il progetto Tra le premiate Anche il cameraman Di Canale 10 Antonio Burgio Che ha seguito Tutte le manifestazioni Promosse dall'associazione Ai visitatori Ieri sera È stato offerto Anche un buffet Preparato dagli studenti Dell'istituto alberghiero Luigi Sturzo Coordinati dal docente Emiliano Sigona Grazie alla collaborazione Del panificatore Maicolo Cassarino E del pasticcere Angelo Cassarino Gli addobbi floreari Sono stati preparati Dal fiorista Salvatore Nobile Appuntamento Al prossimo dicembre Cominceranno da domani Nella parrocchia Beata Vergine Del Monte del Carmelo A Gela Retta da Giuseppe Bendivegna I festeggiamenti Per il Santissimo Crocifisso Il programma domani Prevede dalle 8.30 10.30 18.30 La messa e la preghiera La festa del Santissimo Crocifisso È prevista per mercoledì 11 gennaio Si tratta di un appuntamento Profondamente sentito Dai gelesi Sono aperte le iscrizioni Per l'anno 2017 La pubblica assistenza Procivis Protezione Civile Di Gela Le elezioni Cominceranno mercoledì 1 febbraio Alle 19.30 Si terranno presso La sala riunioni Della Procivis Per iscrizione E ulteriori informazioni È possibile recarsi Dal 16 al 31 gennaio prossimi Presso la sede operativa Della Procivis In Via Ossidiana 23 Oppure chiamando La segreteria Al numero 0933 93 83 12 Ci fermiamo C'è la pubblicità Restate con noi Ciao a tutti Auguri di buon anno Un augurio sincero È stato un anno Di duro lavoro Un lavoro però Che ci ha permesso Di veramente Di cambiare registro Di cambiare Invertire La marcia Di una macchina Che sta mandando Di Italia su Burrone Che comincia invece A muoversi Nella direzione giusta Abbiamo fatto un accordo Con lo Stato Per un miliardo E 600 milioni In più Facendo rispettare Finalmente Dopo tanti anni Lo statuto Della regione siciliana Un accordo Con il governo Nazionale Per fare 3 miliardi E 300 milioni Di cantieri Abbiamo fatto Una legge Per i precari L'economia Riprende Più che altrove Il PIL In Sicilia L'1,6% A fronte Di uno 0,8% Nazionale L'occupazione Comincia a crescere 0,8% In Italia 2,4% In Sicilia Stiamo facendo Dei progressi Siamo contenti? No Abbiamo già fatto Una legge Per stabilizzare I precari Dopo 20 anni E adesso Dobbiamo pensare Ad altre cose Spendere i soldi Dei cantieri Per fare immediatamente Lavoro In tutta la Sicilia Per le imprese Per i giovani Per i disoccupati Avviare i cantieri Della programmazione europea In pratica Partire dagli elementi Che ci sono di sviluppo Per andare avanti Per non tornare indietro Per nuovi traguardi Il 2017 Deve essere l'anno Anche in cui Parte il progetto Per dare ai più poveri Una forma di solidarietà Il salario di inclusione Per tutte quelle famiglie Che hanno meno di 5.000 euro L'anno Non si può vivere In quelle condizioni Dobbiamo pensare Ai più poveri Dobbiamo pensare Alle imprese Sviluppo E solidarietà Che debbano andare avanti Rigore Nella spesa Nella lotta Agli sprechi E alla corruzione Però rigore Senza macelleria sociale Auguri a tutti I siciliani Di cuore Per una Sicilia migliore Per una Sicilia Che dobbiamo portare avanti Per una Sicilia Che si deve riscattare Per una Sicilia Che non può essere più Quella del passato Ma una Sicilia Che cambia E io voglio ringraziare Tutti voi Per avermi dato La possibilità Insieme a voi Di cominciare Questo grande Cambiamento Della Sicilia Bentornati In studio Per la seconda parte Del nostro telegiornale Continuano gli appuntamenti Inseriti nella 83esima stagione Concertistica Gelese Promossa dall'Associazione Amici Della Musica Giuseppe Navarra Domani alle 19 Nei locali del Palazzo Della Cultura Principessa Pignatelli Roviano Concerto del trio Antonella Callea Al Flauto Elisa Vita Al Clarinetto E Giussi Ines Tutto lo mondo Al pianoforte Torneranno a suonare In cattedrale I Rondo Siciliano In occasione del concerto Di sabato 7 gennaio 2017 A partire dalle ore 20 e 30 Il gruppo nasce Nel 2011 Uniti dalla passione per la musica Fabio Palmerio Boista Michele Caruana Violinista Jessica Laverde Soprano E Raul Perna Pianista Propongono musica Appartenente al repertorio classico Rivista però In chiave moderna I Rondo Siciliano Hanno già realizzato Il loro primo disco E sono adesso al lavoro Per ultimare il nuovo album Siamo musicisti di estrazione classica Continuiamo a fare musica classica Ma abbiamo il pallino della musica moderna E quindi abbiamo un attimino Ci siamo permessi di stravolgere un attimino I repertori dei grandi musicisti Per rivolgerli a un'utenza un po' più ampia E questo devo dire Ci sta portando tanto divertimento Tra virgolette Ma anche un attimino un po' di successo Perché ci siamo resi conto che Per la terza o quarta volta Mi sa che stiamo riproponendo il concerto Detto proprio il concerto A Caltanissetta Dico il concerto perché ci teniamo Il nostro capologo di provincia E la maggior parte delle persone che ci seguono Sono di Caltanissetta Tra sabato sentirete in maniera In chiave molto diversa O proposto in maniera diversa I nostri brani che abbiamo riarrangiato Quindi brani prettamente classici Ma in chiave moderna Quindi Vivaldi Morricone In chiave moderna Saremo accompagnati Da un'orchestra Sia giovanile Che comunque di professionisti E da un coro Dalla Don Milani La corale Don Milani Diretta dal maestro Rosario Randazzo In tutto possiamo dire Di essere quasi Quasi Un 80-100 elementi Quando siamo praticamente tutti al completo Un bello staff E che dire Tanto lavoro Tanta passione Tante prove E tanto impegno La musica per noi rappresenta tutto Rappresenta l'aria che respiriamo Non possiamo farne a meno Completamente Noi respiriamo musica Dalla mattina alla sera E questo ci permette Di superare tanti ostacoli Che sono magari l'ostacolo Della stanchezza A volte Però la musica Ci gratifica ogni giorno E questa è la cosa più bella E cerchiamo di trasmettere La nostra passione Naturalmente A tutti coloro che vengono Ai nostri concerti Tutti coloro che ci ascoltano Ai nostri allievi Perché siamo tutti insegnanti Quindi ogni giorno È bellissimo Trasmettere Questa nostra passione Ai nostri allievi Adesso parliamo di sport C'è il calcio Scatta domani Il girone di ritorno Del campionato di Serie D Al Vincenzo Presti Il Gela sfiderà il Pomigliano Bisogna vincere Parole e musica Del portiere Biancazzurro Moreno Saitta Vediamo Anno nuovo E vittoria nuova All'orizzonte per il Gela E l'auspicio In casa Biancazzurra Domani riparte Il campionato di Serie D Dopo le vacanze natalizie Comincia il girone di ritorno Al Presti Sarà di scena Il Pomigliano Squadra che in classifica Ha un vantaggio di un punto Rispetto ai Gelesi 29 contro 28 Una partita da vincere A tutti i costi Per il team Allenato da Pietro Infantino Un successo Che proietterebbe Saitta e compagni In piena zona playoff E' fondamentale Iniziare il nuovo anno Colpiglio giusto Abbiamo finito Lo scostante Nel migliore demo E adesso Siamo vogliosi Di ricominciare Di ricominciare Nella maniera Nella maniera Più giusta Lo sappiamo che Domani è una partita Una partita in bostanza Arriva una squadra Una squadra Appena attenzata Quindi ci faremo Trovare pronti Domani il tecnico Giovese dovrà fare a meno Del centrocampista Evola Squalificato per un turno Dal giudice sportivo Per somma di Ammunizioni Da verificare Le condizioni Di alcuni Acciaccati Chiunque andrà in campo Comunque dovrà dare Il cento uno per cento Ogni singolo giocatore Diene un'importanza Di un'importanza Di un'importanza Fondamentale Quindi è chiaro Che anche Quelli che Vengono chiamati in causa È chiaro Che ti danno Il cento per cento Certo Le assenze Sono sempre Sono sempre pesante Perché guardiamo Ovviamente Di giocatori Che hanno esperienza Come Ciccio E Raffaele Però su questo Non ci dubbio Che quelli che Vengono chiamati in causa Danno Danno l'animo Per la maglia E per i compagni Da domani Se vogliamo Comincia un nuovo Campionato E il Gela Tutte le carte in regola Per agguantare Una posizione Delit In classifica Le potenzialità Ci sono Le potenzialità Non mancano Anche noi Siamo consapevoli Dei 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 nostri mezzi Questa squadra Non si vuole Nell'obiettivo Nell'imini L'obiettivo nostro È quello di Quello di fare bene E ti sorprendere E speriamo Di cominciare A farlo Da domani Omini Mezzi Omini Ominicchie Qua quara qua È il titolo Di un libro Scritto da Antonio Candrello E che verrà presentato Il prossimo 13 gennaio Alle 17 Nei locali Della biblioteca Comunale In via Butera A Gela Relazionerà Biagio Pardo Alla presentazione Interverranno Tra gli altri Angelo Fasulo Ex sindaco di Gela Patrizia Zanone L'assessore comunale Francesco Salinitro E il sindaco Domenico Messinese C'è l'informazione Cinematografica In proiezione Dalle Oggi Alle 17.30 Al Cineteatro Antidoto Il cartone animato Rock Dog Alle 19.30 Alle 21.30 Invece sarà proiettato Il film Non c'è più religione Con lo spettacolo È tutto Anche per questa edizione Del nostro telegiornale Grazie per averci seguito Fin qui A tutti voi Un buon fine settimana Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti